Salve a tutti, bentornati nel nostro canale, Luca e Cristina vanno all'avventura di questo magnifico castello che speriamo ci dia delle soddisfazioni perché da quello che sappiamo noi fino a 3-4 anni fa era chiuso, perché ci siamo già venuti, abbiamo già fatto un video su questo castello, poi ho detto ma torniamoci a volte, se tante volte ci fosse qualche novità lo vedremo, entreremo, altrimenti faremo un video uguale all'altra volta con l'esplorazione dà fuori, speriamo di entrare. Cosa? No, che sì. Grazie. Grazie. Sa che siamo entrati. Grazie a tutti. 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 Ciao a tutti. Ciao a tutti.